Missione Lampo in Libia per il Presidente del Consiglio Italiano, Giuseppe Conte, appena atterrato a Tripoli, ha incontrato il Presidente riconosciuto dall'ONU al-Sarraj e il Presidente dell'Alto Consiglio di Stato al-Meshri. Conte ha auspicato pubblicamente che il 2019 sia l'anno della svolta per la stabilizzazione della regione dove sostano 700.000 immigrati irregolari. Il governo italiano precisa che la visita rientra pienamente nella roadmap messa a punto dall'ONU dopo la conferenza di novembre di Palermo. In agenda anche l'incontro con il generale Haftar, comandante dell'esercito nazionale libico e avversario di Al-Sarraj, personaggio fondamentale per la riuscita della conferenza nazionale, preludio delle elezioni di primavera.